Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fare però attenzione per nebbia a banchi segnalata sulla FIPILI tra Santa Croce e Lavoria e in A12 tra Pisa Centro e l'allacciamento per l'Aurelia. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione e restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Amendola per lavori chiuso il controviale tra Via Giotto e il numero civico 48. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!